Ben tornati e bentornate qui su Eller Channel, oggi sto andando a registrare un programma televisivo per cui vi porto con me, ho pensato insomma di vloggare, di portarvi un po' con me, era da un po' che non facevo vlog di questo genere, per cui insomma se siete curiosi di sapere che cosa vado a fare, non vi rimane che guardare questo video, ma prima come al solito vi chiedo un like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Vi mando il solito bacio e ci vediamo dopo la sigla. Bella raga, oggi sono venuta qui ad altro studio a registrare una puntata di uno show televisivo che è condotto da un caro amico. E poi vi farò vedere qualcosa, insomma vi avvertirò quando ci sarà in onda la puntata, sarà su Odion TV e su TV Capri o Rete Capri, ma comunque sono TV abbastanza seguite e seguibili in tutta l'Italia, per cui insomma vi avvertirò. Adesso vado dentro e registriamo questa puntata e poi ci vediamo dopo. No, credo di no, volevo levarlo, ti dispiace? No, no, no. Allora io sto anche già, cioè io sto vloggando, poi non so se mi dici io la metto. Allora, mi sta microfonando, che sono col mio amico Marco che è quello. No, perché no, io sto facendo le prove a Luzzi. Perfetto. E qua, giusto? Sì. Attacca pure. Ok, ottimo. Così registriamo questa. Sì, questo magari, o lo fai passare nella camicetta. Sì, forse è meglio, un attimo. Facendo la carta d'identità, statura 160 spaccati. Ok, sei sicura, possiamo parlare. Tesoro, tu lo sai, io faccio gli esami ogni due mesi e 160 spaccati, per cui. I capelli a sto giro sono... I capelli a sto giro sono mezzi castani. Castani, scuri. Sì, in realtà sono rossa, però non gliene frega nessuno che io sono rossa. Poi gli occhi azzurri. Occhi, zurri, zurri, non ce l'ha nei miei occhi. Ok, zurri. Zurri. Bello. Semi particolari, in realtà io tipo, questi segni particolari li dedico alla professione, a quello che ci interessa, di cui poi alla fine ci interessa parlare. Quindi, youtuber. Va bene. E poi che cosa mettiamo? Magari cantante. Cantante. Se vuoi mettere, mettiamo prima cantante, poi youtuber. Ma sì, stessi. In questo momento sono più su youtube che sulla musica, però. Ok, allora, youtuber. Poi cantante, vogliamo mettere qualcos'altro? Me lo so. Una battuta. Una battuta. Che ne so. Battente. Non lo so. No, non lo so. Io sono particolarmente poco simpatica e noiosa, per cui, non lo so. Se vuoi puoi scrivere noiosa. Cioè, secondo me, sì, si può scrivere noiosa. Sì, sentiamo... Boh, una cosa simpatica che viene. Hai degli animali? No, avevo un topo. No, è vero, avevo un topo. Sei stata malissimo quando è morto, non ho mai più comprato nessuno. Non ho mai più comprato nessun animale. A me era vero, sì. Allora, aspetta, però. E vedevi cantante come come scopra? Un topo? No, era un... Un criceto, Roboroschi, sì, però era un topo. Sì, era comunque un topo. Però, cioè, quando mi è morto sto topo qua, per me è stata la tragedia. Cioè, io ho degli cani che sono grandi come scopra, perché il mio cano è così. Sì, se ci sono, sì. Ma sono grandi, non c'è la... E io quando è morto, praticamente l'ho tenuto una settimana in frigo, in una specie di piccola barra di fiori, e poi... E poi l'ho, sì, e poi l'ho seppellito sotto una rosa, e adesso c'è una rosa che è alta così, che si chiama la rosa fulmine, perché è la rosa del mio topo. Cioè, io se puoi la rosa mi muore, ciao. Scusa, cosa? Scusa, allora, io sono sul tuo canale YouTube e nel channel. Ok. Per Instagram, il canale... Ellergratitude. Ok, perfetto. Poi hai qualcos'altro? C'è il canale musicale che si intitola... si chiama Ellernet, e Facebook Ellernet. Io sono in resia, li faccio vedere, quindi se vuoi anche vedere qualcosa... ...vi commentare qualche foto su Instagram, cose del genere. Ok. Perfetto. Ok. Allora, dov'è che... ah, qua. Sì, firma del titolare, insomma. E poi facciamo la porta, allora... ...mi sto parlando... Sì, con la resta. E tanto amore. E qui, se vuoi mettere la forma della tua mano, fare un disegno, un cuoricino, quello che vuoi. Sì, molto... Sì, molto... Sì, molto... Adesso firma il conditore. Ok. Allora, prendiamo position, qua dietro. Ok. Mi fai la cortesia di salire su gradini. Ma c'è questo che mi continua... Allora, aspetta, ti faccio un bel trucco. Esatto. Aspetta, è che mi sto anche... Ciao a tutti! Ok, allora... Adesso te lo chiudo. Ok. Faccio l'incipit e poi, quando lo apro, mi fai la cortesia... Di stare, tipo? Di tenerlo. Di tenerlo così. Ok, se no accade. Esatto. Così io riesco ad aprirlo fino a qua. Ok. Questo qua, ancora un po', cioè loro stanno finendo di fare... Ah, divertissimi, mi sono divertita molto. E poi, insomma, vi dirò quando... Vi faccio rivedere lo studio. Allora, mi sono diventato... Mi sono divertita veramente tantissimo. Spero che sia venuto tutto bene, che il programma sia stato... Insomma, sia stato registrato bene, ma credo proprio di sì. Loro erano tutti simpatici. Penso che, insomma, si sia visto che... Ci stavamo divertendo tutti. Poi mi sono fermata a parlare un pochettino con Marco. In ogni caso, non vi spoiler niente, perché non posso, perché non è sicuro. Però, insomma, mi farebbe molto piacere che andassero in porto alcune cose che sono venute fuori durante questo appuntamento. e che, ovviamente, sono rimaste un po' dietro le quinte. Mi auguro che il video vi sia comunque piaciuto. Appena uscirà la puntata, vi avvertirò sui miei social. Per cui, insomma, state aggiornati sui miei social. Su Facebook è L'Ernet. Su Snapchat è L'Ergratitude. E su Instagram è L'Ergratitude. E su Twitter è L'Ernet. Per cui, che altro dirvi? Niente. Vi ringrazio veramente con tutto il cuore di essere stati con me ancora una volta fino alla fine di questo video. Se lo avete fatto, magari nel commentino aggiungete un piccolo cuore così almeno capisco che avete visto il video fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto, ovviamente, vi chiedo un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di L'Er Channel. Io vi mando, come al solito, un grandissimo bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale.